Sono in tre a contendersi la guida del partito dei cristiano-democratici tedeschi dopo il passo indietro annunciato da Angela Merkel. Dopo quattro mandati e 18 anni di leadership incontrastata, la cancelliera fa i conti con la sconfitta alle urne e nel partito si fa aspra la contesa. Favorita con l'appoggio della cancelliera, l'ex governatrice e nonché segretario generale del partito, Annegret Kramp-Karrenbauer. Abbiamo bisogno di sbarazzarci di quello che ci rallenta e per molti imprenditori in questo paese significa che non ci sono abbastanza professionisti formati, c'è troppa burocrazia e costi troppo alti. Sappiamo quello che dobbiamo fare, finalmente dobbiamo farlo insieme. Rivale aperto della Karrenbauer, l'ex leader del gruppo parlamentare Friedrich Merz, tornato in prima linea dopo dieci anni lontano dalla politica. Siamo a un punto di svolta e nei prossimi anni si ripartirà, ma questa partenza deve iniziare con una corretta analisi della nostra condizione. Jens Spahn, a marzo nominato Ministro della Salute, si intesta alla battaglia per il ricambio generazionale. Si è occupato molto del tema caldo dell'immigrazione da una posizione di opposizione interna al partito. Si può e si deve essere allo stesso tempo moderni, cosmopoliti e orientati ai valori della patria e della famiglia. E' questo che voglio fare, mettere in sicurezza la mia generazione nei prossimi dieci o vent'anni. Il congresso eleggerà il nuovo presidente del partito, probabile candidato alla cancelleria alle prossime elezioni, previste per il 2021. Grazie Grazie Grazie